Poi insomma, oh sei allenata per cui insomma vai Sì no vabbè quello sì, quello sì, va bene ok Allora Svizzera 22 e 85, modesto Adesso dobbiamo aspettare il Giappone, Israele da seguire, ricordiamo che è salita sul podio con le 5 palle con la 26 e 55 Giappone, Giappone, Giappone 22 e 175 intanto il Giappone, ancora più basso della Svizzera Le poverine veramente hanno avuto un disastro dietro l'alba Giappone, Giappone, Giappone Grazie a tutti. Grazie a tutti.